Raccontiamo di sapori, colori e bontà della nostra terra. Esaltiamo la bontà del cibo con la freschezza dei prodotti locali e le primizie di Sardegna. Ristorante-pizzeria Il Quirinale da Tony. Nel cuore della nostra Sassari, l'indirizzo giusto per riscoprire il piacere della tavola. Vieni a trovarci in Via Cavour 3. Saremo felici di servirvi e racconterete di noi. Importante impegno del Governo per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria della Sardegna. È stato infatti accolto l'ordine del giorno presentato da Nardo Marino, deputato del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione Trasporti della Camera, per verificare lo stato dell'arte degli studi di fattibilità già avviati in relative ai progetti di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria, tra i quali la tratta Olbia Nuoro. L'ordine del giorno è stato approvato dalla Camera nell'ambito dei lavori di conversione in legge del decreto che contiene le disposizioni per l'attuazione del PNRR. L'atto, firmato trasversalmente dai deputati sardi, prevede che vengano assunte tutte le iniziative necessarie a finalizzare i progetti già oggetto di valutazione tecnica, d'intesa con la Regione, con la possibilità di prevedere un potenziamento e un ammodernamento dell'intera rete ferroviaria Sarda. Ritorna alla grande prosa e danza a Sassari. Info e prenotazioni www.cedaxardegna.it